L'assessore del Comune di Caltanissetta Felice Dierna, con delega a Randaggismo, sta facendo dei passi in avanti per questo problema che comunque in città, ma come in tutte le città siciliane, si risente parecchio. Problema serio, come diceva lei, problema che riguarda un po' tutte le città, problema tavico, perché sono tantissimi anni che ormai purtroppo, nel senso che ci sono stati dei segnali per quanto riguarda la risoluzione di questa problematica abbastanza seria e abbastanza importante, che tanto mette all'arma i nostri concittadini, ma dall'altro lato ci sono appunto, perché è un animalista e perché ha i cani, sicuramente è un momento importante, visto e considerato che abbiamo, stiamo cercando di, lo faremo a breve, un protocollo di intesa con la Commissione Consiliare, che ringrazio per tutto l'impegno che sta svolgendo, con l'amministrazione, con le associazioni animaliste che hanno coinvolto fin dal primo momento del mio insediamento, proprio andiamo a formare un protocollo di intesa dove poi ci sarà il passaggio successivo per frigare tutti noi questo protocollo con l'ASP. L'ASP che, intendo dire, immediatamente ha subito sterilizzato, sta facendo questa sterilizzazione che è già iniziata, andando proprio nel canile, appunto che è in gestione, il canile che è in gestione, i cani appunto da Cartanissetta, e quindi già questo è un passo importante, ritengo fondamentale, anche perché abbiamo anche, dobbiamo anche riaprire il sito, quello che c'è incontrato a Buccheri, dove per dieci anni circa è stato chiuso, è stato abbandonato, ora lo riattiveremo in questi giorni e le prossime settimane, proprio per dare possibilità, soprattutto, visto che abbiamo riconosciuto una colonia feneghina per gatti, di poter fare la sterilizzazione per gatti, e ci stiamo attivando pure con un terreno che mettiamo a disposizione noi del comune, quindi un terreno comunale, per mettere a disposizione un'associazione che ci ha richiesto, ha fatto esplicita richiesta di un terreno, proprio per poter andare a curare i cuccioli, le cosiddette cucciolate, che ritengo che siano assurdo portarle al canile, proprio perché i cuccioli non sono randaggi, e questi sicuramente sono dei passi importanti, e nei prossimi giorni faremo anche una conferenza stampa per andare proprio a spiegare dettagliatamente tutto.